Contrastare la grande distribuzione con i centri commerciali naturali, l'amministrazione comunale di Roseto mette in campo le prime proposte coinvolgendo le associazioni di categoria del territorio. Sul progetto in fase embrionale sta lavorando l'assessore Orazio Vannucci che ha già avviato i primi contatti. È un modo per spingere le associazioni dei commercianti sia di rilievo nazionale che locale a costituire questi gruppi che comporteranno dei grandi vantaggi in termini di marketing territoriale e in termini di tutela del commercio storico rosetano e del commercio cittadino. La zona interessata inizialmente sarà quella di Roseto Centro, quindi Piazza della Libertà, Via Latini, Via Taulero, Piazza Dante dove si concentra oltretutto la movida rosetana. Quella è un po' l'area naturale per partire con l'identificazione di un primo centro commerciale di Roseto Capoluogo. Ora chiaramente il Comune si impegnerà nel proporre un protocollo d'intesa con le associazioni nel favorire azioni per far partire, per promuovere la costituzione dei centri commerciali naturali. La creazione di un centro commerciale naturale permetterebbe di avere un organismo che dovrà quindi occuparsi di marketing del territorio e di promozione delle attività. L'argomento piace ma bisogna anche iniziare a puntellare il progetto. Non a caso l'assessore Vannucci tornerà a confrontarsi con i commercianti per poi portare la questione al centro del dibattito di una riunione di maggioranza. Fisseremo un po' il punto di partenza per questa importante azione a tutela del commercio cittadino che non deve essere lasciato da solo, deve essere comunque salvaguardato perché è fondamentale anche per lo sviluppo urbanistico di una città la presenza di un commercio cittadino tradizionale che è anche un presidio per la salvaguardia del territorio. Fisseremo un po' il punto di partenza per la salvaguardia del territorio.